Lo sapevamo anche prima, solamente che adesso l'intelligenza artificiale può cambiare le opinioni delle persone e lo può fare meglio delle persone. Dario Modei, un talk, amministratore delegato di Antropic, ha parlato di un esperimento in cui una serie di persone sono state confrontate con altre, alcune influenzate nel cambiare decisioni dall'intelligenza artificiale e altre da persone fisiche. Perché quelle influenzate nell'intelligenza artificiale sono state più influenzate rispetto a quelle fisiche. Non c'erano dubbi, anche perché i grandi modelli di apprendimento fanno sì che alla fine il modo in cui riescono a mettere insieme informazioni dettagliate sulle singole persone, che riescono a raccoglierle, che riescono anche a mettere insieme tutta l'esperienza umana che ovviamente è stata usata nell'addestramento per influenzare le persone, non fa, cioè fa la grande differenza. E quindi a proposito di questo, io peraltro ne parlo nel mio libro Cyberumanesimo, proprio di questo grande tema e di quanto andando avanti nel tempo possa essere addirittura ancora più influenzante attraverso interfacce cerebrali. Di questo ne parlo nel mio libro. Per chi è interessato, lo trova in edicola ancora per qualche giorno e in libreria. Cyberumanesimo. Ciao.